Ma c'è Parenzo, dove è finito Parenzo? Davide, dove sei? Non ho capito. Davide, ci sei o no? In bagno, come al solito a pisciare. E in bagno a pisciare, capisci? Allora, abbiamo con noi il grandissimo direttore in presenza, Vittorio Feltri! Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, ha scritto un libro, il latino, lingua immortale, perché più vivo che mai, che faccio vedere, Mondadori, eccolo qui. Un libro in cui parli del latino, che è stata una tua vecchia passione, diciamo, no? E continua a essere una tua passione, lo pratichi, no? Quotidianamente o no? Assolutamente, assolutamente. Eccolo qua, Parenzo, saluta anche Parenzo. Diciamo che non esageriamo, la mia passione. Sono altre le cose che mi ha fatto. Ah, beh, certo, sì. Per esempio, le signorie. Cioè, la figa è più importante del latino, insomma. Molto, molto importante. Anche se ormai è abbandonato. Il latino, il latino, dovrebbero saperlo tutti, visto che parla in italiano. E l'italiano è poi un latino volgare, molto volgare. Meno preciso, meno sintetico. Quindi, così, ho scritto questo libro. Anche perché molta gente parla latino, usa dei termini latini, ma li pronuncia all'inglese, perché è convinta che si tratti di inglese. Per esempio, tu hai una frase cult sulla masturbazione. Aspetta, aspetta, fammi dire, fallo parlare di questa cosa prima. Aspetta, la masturbazione in latino, qual è la frase? In latino è una poesia, perché si dice plena satisfazio libidinis cum effusione seminis sine copula. Non è volgare, è una poesia. Bellissimo. E definisce perfettamente. Un po' lunghetta, diciamo. È ovvio, se tu vuoi dare una definizione dotta, diciamo. Ripetimela un po', perché fondamentalmente la voglio scolpire questa cosa. Allora, plena satisfazio libidinis cum effusione seminis sine copula. Bellissimo, stupendo. La vostra volta che uso la parola masturbazione, voglio assolutamente utilizzare questa cosa. Invece l'evacuazione qual è? L'evacuazione. Ah, quella è stupenda. Vacuazio matutina, bonatanquam medicina. Vacuazio meridiana, nequebona, neque sana. Vacuazio vespertina, bonatanquam mattutina. Beh, Parenzo è specializzato nell'evacuazione mattutina. Dice sempre che caga la mattina. Basta che caga in latino. Va benissimo. Poi c'è un'altra massima molto importante, perché si dice cogito ergo sum in teoria. Invece? Sì, invece io scherzando con dei colleghi che non sanno il latino, dico coito ergo sum. E loro pensano che sia quella roba lì. Sì, capiscono bene. Allora, voglio però importunare il direttore, dato che stiamo qua invitandovi ovviamente a leggere questo in latino lingua immortale. Molto bello. Però voglio invitare il direttore a un'analisi di quello che accade, diciamo, alle fotografie di quello che accade. Hai sentito prima, perché eri là dietro, quello che ho detto, soprattutto sulla questione dell'Albania. Ora, tu hai visto quei centri dell'Albania, no? Bellissimi. Bellissimi, no? Sì, sì. Ma tu li accoglieresti? Eleganti. Eleganti, no? Sì, sì. Eleganti. Li faresti rimanere lì? Una prigione, dice Parenza che una prigione. Molto meglio che i centri di raccolta che ci sono in Italia. Non c'è dubbio. Ma fosse per te dovrebbero arrivare in Italia oppure no? Questi immigrati? Io se non arrivassero sarei felice. Sarebbe meglio, no? Eh, ho capito. Però purtroppo arrivano. Arrivano. Ma purtroppo per loro non c'è una legislazione che dosi almeno gli arrivi, non c'è niente. Ma fosse per te, fosse per te ovviamente questi qua andrebbero respinti, diciamo, no? Questi immigrati. Sì, respingere è brutto. Sì. Non li farei proprio partire perché se tu cominci a non riceverli una nave può anche andare giù. Sì. Due navi possono anche andare giù. Ah. La terza non parte. Ah, tu dici, sì, sì, se non li... Io sono stato chiaro. Perché sei stato chiaro. Se una nave va giù... Ma è terribile questa. Eh, lo sì, però... La realtà, la realtà è terribile. È una cosa terribile. La realtà... Noi dobbiamo farli sbarcare. Ma no, ma chi lo... E poi vedere chi ha titolo e chi non ha titolo. Eh, buonanotte. Però farli sbarcare, curarli, curarli e poi... Chi ha titolo lo decidi. Chi ha titolo, chi ad esempio viene da paesi in cui ci sono delle dittature, chi ad esempio viene da paesi dove viene perseguitato. Queste persone hanno, in base alla nostra Costituzione, Costituzione... Beh, l'hanno scritta 60 anni fa, 80 anni fa, la Costituzione è superata. Però non rompiamo le bale con la Costituzione. Esatto, sì. No, scusi, un barista cinese alla periferia di Milano ha preso a forbiciate un ladro. Un ladro che si era introdotto per rubare dei grattevinci e forse non solo dei grattevinci. E come la giudichi, questo barista cinese? Beh, ha avuto una reazione eccessiva. Non si può ammazzare, anche se è un ladro, pazienza, ma non lo puoi ammazzare. Puoi dare una bastonata. Per un grattevinci, poi. Però, che uno può essere incazzato alla quarta... Non c'entra grattevinci, a me se mi rubano anche una caramella mi incazzano. Esatto, ma scusa, uno dopo la quarta rapina può essere incazzato pure il cinese? Beh, poi c'è da tenere presente questa cosa, che lui in poco tempo ha ricevuto quattro rapine. Quindi è anche giustificata la sua esasperazione. Ma, assolutamente. E chiamasse la polizia, scusa. E chiamasse la polizia. Ho capito, ma se... E chiamasse la polizia, intanto il ladro va. Esatto. E ritorna. Si vede a rubare due grattevinci, ragazzi. Due grattevinci. A parte che non è vero, perché aveva preso l'intero grattevinci. Comunque, direttore, molti italiani sono dalla parte del cinese. Molti italiani sono dalla parte del cinese che ha ammazzato l'italiano. Eh, vabbè, mi sembra abbastanza normale che ci sia questa reazione. Perché sappiamo come funzionino le cose in Italia. La delinquenza si è impadronita delle periferie, adesso anche nel centro. Quindi è ovvio che la gente si secchi e abbia anche delle reazioni eccessive, magari, diciamo, poco eleganti. Però sono purtroppo... Ma poco eleganti? È morto, cazzo. Come poco eleganti? È morto, poco eleganti. Ma scusa, ma vuoi anche insegnarmi a parlare? Tu che sei sceme, è un'alfaveta. Eh, dai. Per Dio. Piantala di rompermi, coglioni. Fai la tua trasmissione del cazzo. Però, tra l'altro, scusami. Tra l'altro, scusa, questo qua era nell'esercizio del tuo lavoro. Prima di gestione fit in ore. Cioè, queste sono delle cose che possono derivare dal lavoro che fa, no? Cioè, delle... Eh, è ovvio. Se uno fa il ladro si può aspettare di morire, o sbaglio? Beh, io non penso che un ladro pensi di morire, se no non farebbe il ladro. Eh, però ci sta... Perché di solito la fanno franca, no? Anche qui in Italia. Eh, questo non c'è dubbio. Scusi, direttore, lei sa benissimo che questa storia delle piscine, no? Ne abbiamo parlato prima, le piscine delle donne islamiche, riservate alle donne islamiche. Io penso che sia una follia. Lei mai stato con una donna, dato che ha avuto tante donne di religione islamica? No, mai. Mai. Assolutamente. Non sopporto gli islamici. Ah, no? Il loro modo di pensare, i loro costumi, non mi piacciono neanche. No, niente. No, niente. Come non li piacciono? Non li piacciono, sarà padrone. Ma, porca miseria. Ma questo è difficile. Ma uno potrà. Non gli piacciono gli islamici. No, non mi piacciono. Non mi piacciono gli islamici. Non mi piacciono e mi guardo bene dal frequentarli. Specialmente in piscina. Esatto. Caro. Dove lei in piscina non va, peraltro. Mai andato in vita mia in piscina. Cioè, chi va in piscina è un coglione. Ma non hai mai fatto un bagno in costume, ad esempio? Un bagno in costume? No, no, mai messo il piede nel mare. Sì. Mi dicono che sia. Ma ne ha? Ma nemmeno in piscina. Ma fanno, scusami. Ma perché se uno non vuole andare in piscina, Ma che cazzo te ne frega a te se io vado o non vado in piscina? Mi dispiace. Ma fatti i cazzi tuoi. No, ti devi dispiacere. Tu devi dispiacerti quando ti guardi allo specchio. Ho capito, eh? A proposito. Mi dispiace è che non hai mai fatto un bagno ai Caraibi, ad esempio, in Sardegna. Meraviglioso in Sardegna. Fallo tu e annega quanto vuoi. Ma la piscina poi è sporchissima. No, fanno schifo. Le piscine fanno schifo. No, ma perché bisogna dire fanno schifo? Ma tutti quelli che proseguono una piscina, scusa, ma che messaggio diamo? Devastante. Ma perché? Devastante. C'è il cloro. Comunque sai che gli islamici... Ma piantala di fare il pirla dai. Gli islamici dicono che le donne non possono farsi per questo, non vogliono mischiarsi, diciamo. Le loro donne non possono essere viste dagli altri uomini. Ce l'ha ribadito anche una ieri. Come giudichi questa cosa te? No, è un'idiozia. Totale, sì, ma infatti spesso sono degli idioti, spero. Ma chi dà fastidio questo? Ma dà fastidio a noi che vogliamo... Il principio che vengono qui a comandare, a mettere un'ora in una piscina comunale, facessi costruirsi la loro piscina privata e non rompessero il cazzo. Direttore, aiutami tu. La penso esattamente come te. Esattamente. Scusi, direttore, a parte questa cosa qua, c'è la vicenda molto importante dello speed. Lei non lo sa. Adesso fra poco la libero è dello speed nel porno, no? Il governo vuole mettere, anzi l'autority, vuole mettere un blocco a chi ha accesso al porno. Per i minori, dicono. C'è uno speed. Lei utilizza mai lo speed, direttore? Non so neanche che cosa... Sì, lo speed è un mec giustamente. La sua segretaria lo saprà cos'è, però, spero. No, lo speed... Ma stai mica parlando con la mia segretaria, no, pirla? Stai parlando con me? Io non lo so, non lo so, me ne frega un caso di sapere che cosa sia. Ma sei un direttore? Ma sei un direttore? Ma guarda che io ho diretto nove giornali e un pirra come te non l'ho mai rincontrato. Se no non l'avresti manco assurdo. No, non avrei mai assurdo. Però lo speed è il modo in cui, purtroppo, la burocrazia ci consente di entrare all'interno... No, la burocrazia. Ogni operazione deve essere fatta con lo speed per accedere ai servizi pubblici. Ma che fatto che il direttore di un giornale non lo sappia? È gravissimo! Ah, ecco, grave. Comunque, con lo speed... Tu sei malato grave nel cervello. Per accedere al porno bisogna passare attraverso lo speed, perché dicono che così si impedisce. Lei non ha mai visto un porno in vita sua? No. Un film porno in vita sua? No, ma... Non gliene frega niente. Ah, non mi importa niente, preferisco la realtà. Di vedere la gente che scopa così, cioè non si è mai eccitato vedendo un porno. Per l'amor di Dio. Assolutamente. Poi a mia età ti pare che mi eccito. Vabbè, ci sono gente di 80 anni che... Io non sono fra questa gente. Anche perché tu, diciamo, il sesso l'hai conosciuto in... Mi sono sfogato abbastanza. Ma questo mi sembra una roba assolutamente... Adesso è più rilassato. È più rilassato. Mi sembra una cosa assolutamente legittima. Io trovo assurdo che ci sia un governo o comunque uno Stato che decida come accedere al porno. Lo trovo una follia. Lo trovo una follia. È una scemenza. Ma per te è giusto, perché... Ma per proteggere i bambini? Ma è come per comprare le sigarette? Sì, ma lo sai perché? Perché dicono che bisogna proteggere i bambini dal porno. Scusa, direttore. I bambini non possono andare a comprare delle sigarette. Devono mostrare la carta di identità. Altrimenti non te li danno. Non lo sapevo io. Noi non lo sapevamo. Lo sai solo tu. Non lo sai. Pistola. Sta zitto. Tra l'altro anche questa cosa del fumo dei minori è una cazzata. Perché i minori fumano di più anche con tutti i divieti che ci sono. Io ho cominciato a fumare da 13 anni. Ho 81 anni. Ho fatto un attacco l'altro ieri. Sono perfetto. Polmoni rosa. Dunque secondo te le sigarette non fanno un cazzo? Come dicono? Tutte minchiate quello che dicono i tumori. Fa male anche la pasta in bianco. A qualcuno. Sì certo. Dice tu. Tutte le restrizioni che ci sono nei confronti dei minori le toglieresti tutte tu. Tutte. Ma quello anch'io posso dirti. Tanto non serve un cazzo. Ci sono tutti i report, le statistiche che dicono che i minori fumano di più. Che fumano di più. Fumano di più. Fumano di più. Scusi leggo sempre notizie di uomini che sparano alle donne per gelosia spesso. Quelli che vengono chiamati femminicidi e secondo me non sono femminicidi. Ecco. E come... Evidentemente sono cretini. Perché si dovrebbero sparare da un'altra parte. Si dovrebbero sparare loro prima senza ammazzare nessun altro. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Senta direttore io prima di... I cani sono andati al senato. Ha visto? Sono entrati al senato. Sì ma molti si stupiscono di questa cosa ma il senato, anche la camera, è piena di cretini e quindi c'è posto soprattutto per i cani. Ottimo dunque la presenza. Non c'è niente di strano. Anche i forci potrebbero andare. Anche i forci potrebbero andare. Accanto a lei c'è una bicicletta. La vede questa bicicletta? Sì accanto a lei c'è una bicicletta che è ormai diventata un suo simbolo. Si è bruttina però è una di quelle che usano spesso i ciclisti a Milano nelle piste ciclate. No ma io non ce l'ho con i ciclisti. Io ce l'ho con le piste ciclabili che il nostro sindaco ha infestato la città con queste e mi rendono difficilissima la circolazione e poi sono un pericolo per i ciclisti perché loro non si sentono troppo sicuri sulle piste. Poi una macchina che so svolta a destra, infatti ne sono morti tantissimi. Anche quelli dai monopattini ne sono morti tantissimi. Lei non sopporta i monopattini per esempio? No. Li cancellerebbe? No ma ognuno fa quello che vuole, va Ma lui cosa gliene frega visto che gira con la macchina con la berlina sua Anche con l'autista se non ti dispiace Grazie direttore a presto Grazie maestro Grazie a presto Ciao